Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, eccomi qua con un nuovo bottino passione e unghie, le novità del mese di maggio e sono uscite veramente delle chicche spettacolari, veramente spettacolari. Partiamo dalle cose più veloci da farvi vedere, quindi sono usciti degli stickers e sono queste striscine da decorazione olografiche, quindi abbiamo questa bellissima, cioè che cangia veramente dal verde all'azzurro al viola, oro, bella 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 bella, ed è l'holo silver strip, questi righine sono i famosi strip. Io vado di righina, ecco l'altra lezione, ma guardate quanto sono belle, cioè veramente belle, è questa holo gold strip, poi abbiamo semplicemente la nera, black strip, semplicemente in oro, come vedete nella stessa confezione troviamo più misure, più grandezze, gold strip e poi abbiamo questa qui multicolor, molto carina, veramente bella, anche questo con questo effetto specchiato, ed è rainbow strip, molto carina anche loro. Poi abbiamo un kit di glitter in polvere bellissimo, un kit di otto, otto barattolini, eccoli qua, avviciniamoli, che vi arrivano in questa scatolina molto carina, davvero, e questi qua ovviamente hanno la particolarità che si illuminano al buio, ma sono veramente carini. Allora ve le faccio vedere uno ad uno, sono ripeto otto, dietro trovate anche il nome, qui abbiamo il giallo, eccolo qua. che ve lo faccio vedere direttamente così, e poi spingiamo la luce, spengo già questa di qua, e le vediamo al buio. Quindi questa è la gialla, riaccendo, bella. L'unica cosa che mi sembra di notare è che la polvere all'interno è veramente poca, cioè non riesco a capire se è la stessa quantità di tutte le altre polveri. Ora non c'ho niente nemmeno per raccattare il glitter, però vedete, cioè, mi sembra molto povera la faccenda. Cioè, questi qui, fate una cliente barra due e sono finiti praticamente. Cioè, se uno decide anche di farle su tutte e dieci lunghi, anche in versione sfumata, ci fate, ma malapena forse sì, due clienti. Non lo so, me l'aspettavo un pochino più pieni, francamente. Quindi questa abbiamo la gialla, peccato perché poi sono bellissimi. Qua abbiamo la verde, voglio zoomare per farvi vedere bene i riflessi del glitter. Abbiamo la verde, cioè, sono veramente belli, veramente belli. Spingiamo e vediamo al buio, eccolo qua. Che carini. Questa è la gialla di prima e questa è la verde, vedete, si vede la differenza, eh? Si vede molto bene. Poi abbiamo la lilla. Eccola al buio. Io impazzisco per questi, veramente, anche quelli usciti quando, due mesi fa, quelli tutti trasparenti, fecero veramente furore tra le clienti. Abbiamo l'azzurro, stupendo, bellissimo. Questo azzurro è veramente bello. I glitter sono abbastanza sottili, eh? Quindi è probabile che qualcosina si riesca a utilizzare anche in superficie. Però, secondo me, secondo me rendono bene sotto. Ovviamente, se li utilizzate sotto, non usate prodotti al di sopra che abbino protezioni a raggio UV, perché sennò non riesce a prendere la luce esterna per poi illuminarsi durante il buio. Ecco, quindi vi consiglio di usare prodotti senza protezione UV. Eccolo qua, bello anche questo. No, comunque sono spettacolari, eh? Sono veramente spettacolari. Peccato che ci sia poca polvere all'interno, secondo me. Fatemi sapere se è solamente una mia impressione o se anche voi. Cioè, non so quant'è il quantitativo del glitter in generale, vi dico la verità. Qui abbiamo un fucsia pazzesco, pazzesco. È veramente pazzesco. Eccolo qua. Comunque, la cosa bellina di questi glitter è che si vede bene anche al buio, che cambiano colorazione, ecco. Cioè, non sono tutti uguali, perché a volte questi glitter che si illuminano al buio, anche se poi alla luce sono colori diversi, ma poi quando vanno a illuminarsi durante la notte, durante il buio, sembrano tutti uguali. Invece queste qua si vede bene la cangiatura, che è diversa. Abbiamo un altro rosa. Questo è molto più soft rispetto all'altro. Eccolo qui. E vediamolo in fase notturna. Sì, si vede che è più soft. Vedete la differenza tra il fucsia acceso di prima e questo qui soft. Cioè, si vede proprio la differenza tra un glitter e l'altro. Bellissimo anche lui. Poi abbiamo l'arancio. Eccolo qua. Versione notturna. Molto bello anche lui. E infine la versione chiara. Quindi la versione ghiaccio. Bellissima anche questa. Ed eccola qua. Questa di notte spacca. Queste qui veramente vi vedono anche da Marte. Con questi. Bellissimi ragazzi. Veramente molto belle. Quindi, eccoli qua tutti insieme. Queste sono le colorazioni che troviamo dentro al kit dei Glitter Glow. Rispengiamo un attimo la luce così le vedete memorizzate a luce accesa e poi le vedete tutti insieme a luce spenta. Veramente molto molto carini e particolari. A me piacciono tantissimo. Bravi, 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 bravi. Passiamo ad altre novità. Sono usciti due kit. Uno è lui. Pimp My Nails. O Pimp. Pimp. Va beh, insomma. Bellissima la grafica effetto fumetto. Veramente molto molto bella. All'interno i nostri cinque colori girati anche al contrario perché io in questi giorni già li ho utilizzati. Ho utilizzato LOL e ho utilizzato BOOM. BOOM è bellissimo perché è un corallo a base rosata molto molto carino. Quindi inizierei a farveli vedere. SP370, questo pesca, questo è veramente pesca, no, questo lì è un color salmone, ecco, con precisione. Color salmone. Pastellino, carinissimo. Eccolo qua steso su tip. Poi dopo ve le faccio vedere anche in versione matte, che l'ho già stese e sigillate. Poi abbiamo i BOOM, abbiamo, che è il 371, che è appunto il colore che vi dicevo che ho già utilizzato. E vedete quanto è bello. Questo corallo è proprio corallo a base rosa proprio, eh. Molto 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 carino. Molto bello lui. E mi sembra già anche dai tre colori che uscirono lo scorso mese di semipermanenti, che si è cambiata un po' la consistenza rispetto agli altri. Almeno di questi qui e dei tre scorsi dello scorso mese, la consistenza è molto più sottile. che vi dirò, la prima passata sembrano quasi poco coprenti. Poi con la seconda coprono, eh. Almeno questi qui due non mi hanno dato problemi. Però hanno cambiato la consistenza del prodotto. Eccolo qua steso su tip. Veramente molto carino. Che vi dirò, non è che mi dispiace la consistenza del prodotto, perché forse quelli prima erano anche troppo, troppo densi, cioè troppo pastosi, troppo spessi. Però, ehm, ho sempre paura che ci sia poca coprenza, ecco, quando vedo questi, questa consistenza un pochino più acquosa, ecco. Qui abbiamo, wow, SP372. Che bello, molto molto bello lui. Eccolo qua, questo fucsia, bellissimo, veramente bello. Questo è proprio un rosa Barbie, shocking. È bello, 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 bello. Mi piace tantissimo. Eccolo qua steso sulla tip. Bellissimo. Poi abbiamo Splash, che è l'SP373. Ok, sì, non vedevo i numerini. Ed è questo azzurro. Molto bello. De chiaro, delicato, veramente molto carino anche lui. Eccolo qua. Ci piace. E infine abbiamo Cool, che è l'SP374, che è un verdino. Meno male non ci sono gialli, perché guarda, ma aspetto sempre gialli. Quando escono questi kit qua. Molto bello anche lui. Questo è proprio un verde menta. È quel verde che quest'anno sta spaccando alla grande anche nell'abbigliamento. Bellino. Veramente molto carino. Tra l'altro questo fiume sono accorta ora di non averlo steso nella versione matte. Perché oggi le stendevo tra una cliente e l'altra e qualcosa è sfuggito, eh. Eccolo qua sulla tip. Molto bellino anche lui. Eccoli qua tutti insieme. Anche insieme sono veramente carinissimi. Per esempio anche Boom e LOL, quindi lui e lui, abbinati insieme, sono fantastici. Questo col V, con l'azzurro. Insomma, se date agio alla fantasia, sono veramente carini anche abbinati tra loro. Vi terrò aggiornate sulla stesura su unghia, su unghietta, anche degli altri. Questi qui due, ok, promossi. E il resto vi terrò aggiornate. Ve le faccio vedere in versione matte, tranne il verde, perché ahimè me lo sono dimenticato. È così. Ora col fatto che io ho tutta la roba in negozio, veramente preparo tutto il negozio e poi porto a casa e poi riporto il negozio, veramente è un dramma, ma giuro che vedo di organizzarmi e di fare il video direttamente in negozio, anche perché mi piace farvi vedere anche i confronti con i colori che già magari ho a catalogo e che possono essere simili. Però vedo di fare come nello scorso video, nei giorni successivi su Instagram vedo un attimo di confrontarvi i colori. Quindi se non sentite niente vuol dire che non ci sono somiglianze, altrimenti ve lo farò presente su Instagram. Che vi lascio qua, seguitemi per chi mi vuole seguire in maniera che appunto rimaniate aggiornate su tutte queste cosine. Ok? Vai. Allora, questo kit mi piace, super promosso, così insomma per quanto riguarda i colori, veramente carinissimi. E poi arriviamo alla bomba. Questo kit, allora quando l'ho visto sul sito, perché io francamente ad oggi non sono riuscito ancora a guardare la diretta di Passione Unghie, quindi non ho idea di cosa possono aver detto. Quando l'ho visto sul sito ho detto mamma mia un altro kit glitterato, ho detto boia, ci picchiano con questi glitter. E poi tra l'altro questo kit qui costava anche un bel po' di più, se non sbaglio, rispetto agli altri. Forse sono a quarantina d'euro, insomma, non mi ricordo. Comunque mi sembrava fosse più alto a livello di prezzo, ma ragazze, cioè secondo me le vale tutte. Cioè, è veramente veramente bello. Glorious Flash si chiama. Grafica, sempre altrettanto pazzesca. Guarda, forse per me io terrei tutte le grafiche dei cartoncini, sia di Passione, di Lafam, cioè vorrei tenerle tutte, che non saprei veramente dove metterle, ma sono troppo belle e mi piange il cuore francamente buttarle via, perché insomma ci mettono tutto l'impegno di questo mondo per crearle, idearle e quant'altro. Buttarle via mi dispiace tantissimo, ma non posso nemmeno tenerle, quindi sono costretta. Eccolo qua il kit tutto glitterato. Allora, quando l'ho visti così, ho detto, vabbè, meh, i soliti glitter. Quando l'ho aperti, mi si è aperto il mondo, veramente il mondo. Cioè, gli occhi mi si sono aperti, le pupille, veramente bellissimi, bellissimi. Io chiacchiero, ma se ve le faccio vedere, invece di chiacchierare sarebbe meglio. Ragazzi, preparatevi, eh. Ora vabbè, l'avrete già visto e rivisti, eh, perché io arrivo tardino. Però preparatevi, perché sono belli. SP375. Guardate la bellezza di questo glitter. Ma abbiamo idea? di quant'è pazzesco? Cioè, riuscite a vedere tutte le sfaccettature di questi glitter che sono all'interno? No, vabbè, io ci muoio. E poi sono di un sottile, ma di un sottile. Io ho già utilizzato, tutti li ho già utilizzati, perché poi ho fatto anche una cliente che l'ha avuto tutti i cinque unghie diverse da quell'altra. Tra l'altro, mannaggia, a me mi sono dimenticata di fargli la foto, però ho una foto con questo colore. Ve la metto qua da qualche parte. E, vabbè, stupendo, stupendo. Tra l'altro ho una foto con questo colore. Ve la metto qui, o se no, comunque se la trovate su Instagram. Ma, vabbè, bellissima. Veramente bellissimo. Eccolo qua, steso su tip. Ma, così, della videocamera non rendono, cioè, queste veramente le dovreste vedere dal vivo. Cioè, credetemi, prendetelo questo kit, prendetelo, perché merita. Abbiamo Diamond SP376. E qua andiamo sul viola. Ma, vedete? Ma, ma ve ne rendete conto della bellezza? Qui all'interno abbiamo del fucsia, del bluette, del lilla. Ma, sono stupendi. Sono veramente stupendi. Poi, appunto, avendo questo effetto che col flash spacca, vi divertite veramente a fare video, foto, fantastici. Dopo ve le faccio vedere su tip anche col flash. Ed eccolo qua. Il viola. Allora, questi qui sono due passate. Considerate che sotto avremo l'unghietta, quindi... ...veramente molto bello. Poi abbiamo lui, anche lui mi piace tantissimo, veramente tantissimo, che è l'SP377. Eccolo qua. Guardate la bellezza. Anche questo piace tantissimo. Ed effettivamente è davvero bello. Mamma mia. Veramente adoro. Questo all'interno ha delle rosa. Poi questi tipo foil. Sono veramente belli. Sono rimasta sciocco basita da questo fit. Poi questo. Questo è uno spettacolo. SP379. Ovviamente spettacolo per me, perché poi i gusti sono tutti molto soggettivi. Che è bling. Ma guardate lui. Ma guardate lui. Cioè, questo all'interno c'ha il mondo. Il mondo in una boccetta. Ma avete idea dei colori che emana questo qua? Con questa base verde acqua. All'interno abbiamo queste scagliettine fucsia, oro, verdi. Vabbè. Pazzesco. Questo è veramente pazzesco. Pazzesco. Meraviglioso. Meraviglioso. Fate conto che questi qui li ho utilizzati tutti con una base cover. E ho fatto una passata. Solamente nella foto che vi metto con il primo. Ho fatto due passate, perché l'ho utilizzato senza una base cover. Non l'ho messo sotto base cover. Allora, questo abbiamo Star, che è l'SP378. E questo qui, fra tutti i cinque, è quello che mi piace meno. Questo verdino un po' sciapito. Cioè, è bello, perché poi nel complesso è bello. Però ecco, magari abbinato con gli altri, come ho fatto con la cliente che ne ha fatte appunto. Le ha utilizzate tutti i cinque. Però solo lui, non so se mi farebbe impazzire, ecco. Però devo dire che a livello di sfaccettature è bellissimo anche lui. Con questo fucsia che risalta all'interno è molto bello anche lui. Ed eccolo qua, sul tip. Ve le faccio vedere tutti insieme. Eccoli qua. Aspettate. Eccoli qua tutti insieme. E vedete che anche tutti insieme sono davvero molto, molto belli. Davvero molto belli. Adesso attivo il flash, così lo vediamo anche col flash. Eccolo qua. E danno questo effetto cangiante. Ma guardate le paillettine che sono all'interno come spiccano. Cioè questa è pura bellezza. È veramente pura bellezza. Sono davvero molto particolari. Cioè penso che si percepisca l'entusiasmo che ho per questo kit. Veramente molto, molto bello. Bravi passione unghie. Veramente molto bravi. Ok. Direi che ci siamo. Vi ho fatto vedere tutto il bottino che abbiamo acquistato questo mese. E vi dirò. Al momento non mi ha deluso niente. Ovviamente sono tutte cose da provare. A parte questo che vi dico già. Prendetelo. Cioè ma questo qui non ci dovete nemmeno pensare. Cioè andate, mettetelo nel carrello e portatevelo a casa. Questo qui per la via vi dirò appunto se i colorini sono tutti validi. Per quanto riguarda queste mi piacciono tantissimo. Vi ripeto. L'unica cosa mi sembra poca quantità. Ma non so se è la mia impressione o se la quantità più o meno insomma è quella. Perché poi mi sembra che costicchi anche questo qui. Ora non me lo ricordo con precisione. Però insomma mi aspettavo più quantità all'interno. Però a parte il discorso e quantità sono veramente molto 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 belli. Questi vabbè niente di decretante. Niente di innovativo. Però insomma sono davvero molto carine per andare a bellire le nostre unghiette. Le nostre decorazioni. Ecco anche in combo con le decorazioni. Con altre decorazioni sono molto molto belle. Ragazzi questo è tutto. Vi ho fatto vedere tutto. Soddisfatta. Fatemi sapere cosa avete preso voi invece in questo mese. Vi mando un mega bacione. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.